Ciao! Se hai iniziato a lavorare da poco, oppure lavori già da un po' di tempo per l'azienda di network marketing Evergreen Life e non stai raggiungendo i risultati che ti eri prefissato, sappi che in questo momento stai guardando proprio il video giusto, perché io ti posso dare una mano. Ti dico subito che in questo video non ti mostrerò il piano marketing di Evergreen Life, perché trovi già diversi video in giro che ti spiegheranno proprio la matematica. Io mi voglio concentrare sul come tu possa concretamente aumentare le provisioni del tuo business Evergreen Life. Quindi guarda attentamente questo video perché molto probabilmente è appena iniziato il grande cambiamento che ti aiuterà a fare carriera come incaricato dell'azienda Evergreen Life. Mi presento molto velocemente se non mi conosci, io sono Peter Valchef di networkmarketingmanager.it, sono entrato nel mondo del network nel 2010 e per quattro anni il network è stata la mia principale fonte di reddito. Ho creato team con più di 2000 persone sparsi in tre continenti e sono entrato in questo mondo, come ti dicevo, nel 2010, ma a fine 2014 ho deciso di dedicarmi principalmente a quella che è la mia grande passione, cioè che è il marketing, soprattutto il marketing digitale. In pratica il network mi ha permesso di realizzare quello che era il mio grande sogno e cioè mi ha avvicinato appunto al marketing. E grazie alle formazioni online, grazie ai coaching che ho iniziato a fare dal 2015 ad oggi, ho aiutato centinaia di networker in Italia e in Bulgaria a creare dei processi vincenti per rigenerare più clienti e collaboratori per la loro attività di network. E come ti dicevo, adesso voglio aiutare anche te che stai collaborando con l'azienda Evergreen Life, però stai avendo, diciamo, molte difficoltà a trovare contatti interessati al tuo business e a mantenere anche magari poi i clienti e i collaboratori. Lo so, magari sei sempre presente agli eventi, eppure, eppure non vedi che la struttura cresca. Magari proprio hai provato a fare tutto quello che ti ha detto lo sponsor, comunque però tu ricevi una marea di obiezioni che non sai come gestire. Questo nonostante tu venda prodotti di made in Italy, prodotti di altissima qualità, per esempio l'infuso Life, in questi anni ho ottenuto davvero tantissime testimonianze positive da parte di clienti non solo in Italia, ma nonostante questo tu non riesci a trovare i clienti incaricati. Capisco che magari in questo momento sei stanco delle solite scuse, ci devo pensare, compro il prossimo mese, oppure adesso mi bolletta, questa attività non fa per me, eccetera, eccetera. E magari ti senti un po' demoralizzato e magari pensi anche di essere inadatto a questa attività, però ascoltami attentamente. Io ho preparato un videocorso gratuito che è formato da tre video in cui ti vado a svelare perché non stai ottenendo i risultati desiderati. In questo videocorso in realtà ti svelo anche proprio perché sei condannato al fallimento se continui ad ascoltare solamente i consigli del tuo sponsor, anche se lui o lei è in buona fede. Ma ti do chiaramente anche la soluzione. Ti faccio vedere quali sono i tre pilastri fondamentali sui quali dovrai basare il tuo business di network marketing se vuoi iniziare a vedere i primi risultati e poi anche ovviamente a scalare il piano compensi. Ti faccio vedere degli esempi concreti, ti mostro come un mio cliente che era un perfetto neofita è riuscito a iscrivere nove persone durante i suoi primi due giorni. Lo ha fatto seguendo quattro semplici passi che ti mostro sempre nel videocorso e ti dico che non aveva particolari competenze, ma ha seguito una strategia che io chiamo semplicemente marketing mix. Ti faccio anche vedere degli esempi concreti su come dovresti lavorare su Facebook e sugli altri social applicando il marketing di attrazione. Quindi se vuoi cambiare completamente il corso del tuo business con l'azienda Evergreen Life, essere fiero di quello che stai facendo e camminare finalmente a testa alta, sotto questo video, nella descrizione e anche nel primo dei commenti troverai un link, potrai cliccare su quel link, verrai rimandato a una pagina, lì potrai inserire i tuoi dati e ti manderò il necessario per accedere al corso redduto. Quindi ci vediamo dall'altra parte, buon proseguimento, ciao!